Uno spazio di lavoro comodo è essenziale per il tuo benessere e per lavorare meglio sia a casa che in ufficio. Crea la tua postazione di lavoro ideale con Fellowes iSpyre Series, i comodi ed eleganti accessori per la scrivania dell'ufficio e di casa. La linea iSpyre Series comprende tre differenti assortimenti a seconda che si usi un computer fisso, un portatile o un tablet. Se utilizzi un computer fisso con uno schermo, il supporto Monitor Fellowes iSpyre Series solleverà il tuo monitor ad un angolo visivo comodo. Questo assortimento comprende anche il poggiapolsi da tastiera, il poggiapolsi oscillante, il cuscino lombare, il poggiapiedi e varie altre soluzioni che ti aiuteranno a organizzare il tuo spazio. Crea la tua combinazione di accessori iSpyre Series e lavora con stile e comodità. iSpyre Series solo da Fellowes